Buongiorno Gonzalo, benvenuto. Hai parlato un po' con il mister rispetto a quella che sarà la tua posizione in campo. Vi spiego. Farai il bomber vero di area di vigore o considerando che il Napoli ha molti giocatori capaci anche di inserirsi negli spazi come Amsic, Insigne, Pander, Metters, Iluia Vini. Potrai anche in qualche maniera favorire questo tipo di gioco e quindi creando altre opportunità per la rete, quindi oltre a quelle che potrai fare tu, magari sfruttando anche queste caratteristiche e se hanno di prima punta per passare un po' a scuola e creare queste inserimenti delante. Sì, bueno, hace muchos anni. Juego de delantero centro e per lo che mi compraron è per fare gols. E' mi lavoro e è mia idea e ovviamente anche per generare situazioni a miei compagni. E' la idea. E' per lo che viene, per aiutare al Napoli a subire lo più alto possibile. Bene, grazie, grazie a tutti. Sono una cosa per le televisioni, qui dopo, qui dopo. Grazie.